In questa lezione andiamo a parlare di come andare a riconoscere ragazze che possono essere potenzialmente delle tromamiche o comunque ragazze interessate a far sesso, però dopo il sesso può seguire la tromamicizia come andare a riconoscere questa tipologia di ragazze da Tinder ragazze che ci sono su Tinder perché è anche a tratti divertente come cosa cioè non il fatto di andare a riconoscere semplicemente una cosa che devi sapere come concetto, adesso lo vedrai in questa lezione per non andare a perderti delle ragazze con cui puoi far sesso, con cui puoi avere una tromamicizia però magari ti fai destabilizzare dalla loro descrizione di Tinder questa è la cosa principale che vedremo in questo video tra poco vedremo degli screenshot, non so se ci sono già a schermo o se verranno poi messi tra un attimo vedremo diverse ragazze con cui sono letto al sesso o con cui ho avuto autonome amicizie in questi anni e di cui sono citato a ritrovare gli screenshot e che sono ragazze che appunto, cioè è veramente lo scenario ricorrente che vedremo e che praticamente ne avevamo quasi sempre scritto nella descrizione il fatto di ah no, one night stand, ah non sono qua per far sesso e poi si veniva a far sesso a prima puntento e magari diventavano anche delle trombamiche ti ricordo che dal 16 al 23 agosto puoi ricevere in regalo una giornata di corso al vivo individuale a Milano o Roma con un coach ufficiale di approcciola.it dal valore di 750 euro acquistando uno qualsiasi dei miei migliori videocorsi trovi tutte le informazioni cliccando sul primo link qui sotto in descrizione hai domande o dubbi? scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente anche qui trovi il link in descrizione adesso lo vedremo in modo che riesci a notare dei scenari ricorrenti nelle descrizioni delle ragazze e non ti fai scoraggiare quando le vedi per esempio su Tinder perché tantissime volte, prima, partiamo direttamente poi magari facciamo altre considerazioni quindi partiamo nel primo screenshot di questa ragazza qua che è questa qua, madonna, mi ricordo che è nel 2020 e questa qua è una ragazza asiatica che è del censurato, quindi non si può vedere che è asiatica ma magari si può un po' intuire però è una ragazza veramente molto molto figa quanto per quello che interessa a me e dalla descrizione è in inglese, poi lo traduco io e presente ha scritto sono appena arrivato a Milano vorrei conoscere nuovi amici ovviamente non ti scrivo vorrei avere nuovi tromba amici non ti scrivo, voglio avere una tromba amicizia è troppo secondo te che cosa succederebbe se vuoi avere nuovi tromba amici si ritrova impestata di disagiati e gente cogliona quindi anche mi ricordo una volta uno studente nel 2020 o nel 2019, non mi ricordo dove apprendeva fatto sesso con una ragazza in un corso a vivo e poi ci aveva fatto sesso giusto qualche altra volta poi questa ragazza qua era partita, tolta nella terra era una cosa stata tanti per un po' di mesi e aveva detto questo studente poi via messaggio e guarda, adesso mi sto sentendo con un altro vorrei una relazione con lui possiamo soltanto rimanere amici possiamo vederci, ma non rimaniamo soltanto amici e mi diceva, ma Luca ma ha senso e vado a questo appuntamento con questa qua che mi ha detto, ormai siamo soltanto amici io ho detto, sì, vai a quel cazzo di appuntamento per lei intende tromba amici ma non ti può dire rimaniamo tromba amici via messaggio alcune magari te lo potrebbero dire ma non te lo diranno mai ok? molte volte quando sei in situazioni di quel tipo dove c'hai già fatto sesso e ti dice, rimaniamo amici molte volte intendono tromba amici poi gli uomini non capiscono un cazzo di niente la psicologia femmine infatti c'ho l'audio l'avevo messo se non sbaglio nel videocorso seduzione online adesso ho troppo sbatti ad andare a recuperare quell'audio lì però c'era nel videocorso seduzione online dove l'audio che mi aveva mandato lo studente dopo aver riscopato questa ragazza qua lei mi ha detto, mi diceva ragazzo, grazie Luca perché se non mi avessi detto di andarci appuntamento non ci sarei andato effettivamente voleva rimanere tromba amici però gli uomini non capiscono mai un cazzo di niente giusto? sono qua apposta io a istruire il genere umano quindi notare questa cosa qua adesso la noterai lo stesso scenario anche in altre descrizioni di altre ragazze che scrivono vorrei conoscere nuovi amici adesso andiamo al anche perché non sono su Tinder perché ne hanno già 500.000 di amici non gli interessa avere nuovi amici quindi non farti restabilizzare poi uno dice faccio lo swipe a sinistra perché non è interessato soltanto avere amici faccio lo swipe a sinistra il parallelismo è come le ragazze che magari scrivono nella descrizione se non sei alto più di 1,80 allora non farmi lo swipe a destra ma non conta cioè quello è ciò che lei dice razionalmente ma poi non è che viene appuntento con il righello, il metro e ti misura ok e ogni ogni caso le ragazze scrivono descrizione quando si scrivono a Tinder ma poi si dimenticano quello che hanno scritto nella descrizione cioè non è che lo controllano tutti i giorni quindi andiamo allo screenshot dopo questa altra ragazza qua che ho scopato da tipo nel 2000 e 19 se non sbaglio e vabbè qua la descrizione in realtà non c'è neanche tutta anche perché non ho trovato screenshot vecchi che avevo nei miei archivi migliaia di screenshot eccetera e quindi non sono riuscito a ritrovare tutta la descrizione però tanto non importa perché qua in realtà non si può dedurre niente dalla descrizione cioè non si può dedurre che era una ragazza in realtà con cui si poteva insistare una terremonicizia quindi è andata avanti però in realtà poco come terremonicizia perché infatti dalla descrizione si vede molto che leggiamo giusto due secondi quello che si riesce a vedere sono una ragazza con carattere duro ma con macchina o maschera molto bene sono dolce con le persone giuste sono molto sensibili a volte dipende dalle poi gli è tagliata non si sa cosa c'è scritto dopo però dalla descrizione si capiva che era una ragazza molto in cerca di una relazione però facendo le cose fatte correttamente creando molto interesse scopandomela al primo puntento scopandotela bene facendo tutta la fantasia di altre cose giuste che sono le cose insegnate dall'approccio alla crema deletto e poi le cose insegnate all'inizio di questo corso nel come si imposta una terremonicizia e poi tutte le altre cose che stiamo vedendo in questo corso vai comunque a impostare una terremonicizia anche se lei voleva una relazione perché porti così tanto valore alla sua vita che a lei va bene avere una relazione poi però cerca di avere che a lei va bene avere una terremonicizia la cosa va avanti finché non c'è un eccessivo disallineamento dei valori lei voleva veramente troppo una relazione poi era troppo 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 una relazione e quindi cioè addirittura dopo solo che l'avevo baciata mi aveva fatto capire ah guarda ci sto cercando uno mi sappia stare a fianco e dice che cazzo un attimo ci conosciamo da un'ora tranquilla quindi è andato avanti per poco forse tipo forse un mese neanche quindi ci siamo rivisti giusto qualche volta abbiamo riscopato qualche volta però non è andato avanti per molto però qua dalla descrizione effettivamente non si poteva intuire nulla quindi andiamo alla prossima anche questa qua non si può intuire nulla di particolare dalla descrizione ma alle scritte credo di non essere superficiale cioè non vuol dire un cazzo di niente quindi qua non possiamo dedurre niente però questa cosa è stata una terremonicizia di tipo sei mesi che poi ho troncato io anche perché ne avevo altre tromamiche quindi preferivo altre e anche poi perché mi sono trasferito via dall'Italia nel momento in cui mi stavo trasferendo via quindi è durata finché è durata però sarebbe andato avanti penso fino all'infinito finché magari lei non si sarebbe fidanzata con qualcun altro e sarebbe andato avanti quindi poi era durata sei mesi interrotta poi da me perché mi sono trasferito via dall'Italia quindi qua non possiamo dedurre nulla di particolare magari forse possiamo dedurre ecco guarda magari possiamo dedurre questa cosa qui che comunque nella foto è più o meno mezza nuda in costume eccetera e anche nella ragazza precedente abbiamo visto uno screenshot precedente non qua abbiamo visto stiamo vedendo soltanto la prima foto ma la ragazza precedente mi ricordo che aveva una foto in costume da bagno in costume lì al mare dove faceva vedere il culo quindi potrebbe anche essere questo qua uno scenario ricorrente di ragazze che sono aperte a questo tipo di situazione però qua comunque mi volevo focalizzare più che altro sulla parte della descrizione perché veramente fa ridere come cosa cioè ti scrivono che no non vogliono scopare ma non è vero lo devi capire lo scrivono perché tentano di scoraggiare di demotivare i disagiati i disadattati i morti di figa ma tanto non serve a niente non è che cambia qualcosa se lo scrivono tanto riceveranno comunque i messaggi lo stesso i messaggi da pervertiti come primo messaggio o comunque dopo qualche messaggio mi ricordo una ragazza non so se c'è qua nei screenshot dopo però mi sembra di no con cui ho fatto un'altra un primo puntento che praticamente mi aveva mi ha chiesto perché volevo uscire con lei e quando ero già nel primo puntento non mi ricordo cosa avevo risposto e allora l'ho fatto anche era la domanda perché aveva deciso di uscire con me e mi ha detto perché mi è sembrato l'unico normale che non voleva scopare fin da subito perché tutti quanti gli altri evidentemente la invitavano a casa fin da subito dal primo messaggio dai primi messaggi o facendo scrivono messaggi da pervertiti eccetera quindi e quindi poi le ragazze di conseguenza scrivono nella descrizione e non ho one night stand se cercate sesso andate a fare in culo fate sguipa a sinistra ma ciò non significa allora che non possono non scopare il primo puntento non ci può avere un'altra monicizia eccetera lo scrivono perché ne hanno pieni le tasche di gente disagiata che vuole soltanto scopare che va bene come cosa tu puoi voler soltanto scopare ma devi essere quello intelligente che sa giocare con le ragazze che sa effettivamente muoversi correttamente che non usce le fasi di interazione dall'approccio fino al sesso che poi quindi arriva al sesso ma se tu fai percepire la ragazza fino al primo secondo che te la vuoi scopare che glielo dici anche parole fai battute volgari dal primo secondo in chat su Tinder ma dove vuoi andare è chiaro poi le ragazze scrivono queste cose qua nella descrizione quindi andiamo a quest'altra ragazza qua che nella descrizione questa era stata una troppo amicizia di due o tre mesi una cosa per il genere e nella descrizione questa in inglese lo traduco ciao mi sono appena trasferito a Milano vorrei sarei contenta di fare nuove amicizie ora in questo caso lei in realtà forse bene lo intendeva anche nuove amicizie questa era una ragazza che aveva fatto sesso soltanto con un ragazzo nella sua vita in realtà neanche nulla di particolare e aveva poi avuto un secondo ragazzo ma con cui non c'era fatto sesso quindi non erano in realtà in una relazione e infatti mi ricordo cioè che era rimasta poi tra le rete scioccata in positivo di quello che poi effettivamente era un sesso più appagante rispetto magari a quell'esperienza che aveva avuto con un altro ragazzo in passato però effettivamente era una ragazza molto diciamo tradizionalista ma anche no però vedi è sbagliato dire che era una ragazza tradizionalista conservativa eccetera perché ogni ragazza è in un modo o in un altro a seconda del ragazzo che si trova di fronte a seconda di quanto quel ragazzo è in grado di farla aprire velocemente a seconda di quanto quel ragazzo è in grado di tirare fuori il suo lato più sessuale ok quindi poi per chi vuole sentirla questa c'era anche la registrazione dopo il sesso nel videocorso traduttore donna uomo non mi ricordo quale delle registrazioni era ce ne sono dieci di conversazioni post sesso e appunto dicevano che non era mai capitato di aprirsi così velocemente con uno però vedi che c'è come se porti un sacco di valore alla vita di una ragazza la ragazza tranquillmente anche se aveva avuto soltanto un'esperienza scadente ha letto è giovane non so se c'è nessun lato nello screenshot però c'era 22 anni ai tempi una ragazza che poi questa proveniva dal Kazakistan quindi paese diciamo molto conservativo ma in realtà tutti quanti i paesi sono conservativi forse alcuni di meno l'America magari gli Stati Uniti magari sono meno conservativi in termini di darla via facile le ragazze però più in tutti i paesi sono conservativi quindi nel momento in cui porti sufficiente valore sai fare le cose fatte correttente la ragazza tranquillmente accetta il tipo di relazione che tu imponi se ti fai le cose giuste quindi andiamo allo screenshot dopo quindi però prendere lo screenshot dopo c'è nota come esattamente uguale alla descrizione rispetto al primo screenshot che abbiamo visto vorrei farmi nuovi amici ok di non farti destabilizzare da queste cose poi quest'altra qua questa è una ragazza del 2022 a Dubai e qua beh non c'è nulla di particolare nella descrizione però in realtà anche si qua c'è let it flow che lascia scorrere lasciati andare non so segui il flusso non so si può tradurre in diversi modi quindi una descrizione tra le qualità alla cogli l'attimo viviti la vita quindi il messaggio sottofondo era più o meno quello quindi è un messaggio abbastanza è molto allineato con quella che può essere una trama amicizia quindi dalle foto non ho tutte quante le foto in realtà ci le ho però qua per questa lezione non le ho preparate e questa è soltanto una delle foto nelle altre foto adesso non mi ricordo se faceva vedere nudità o robe in costume o robe di questo tipo però niente quindi è una descrizione che comunque ti può fare intuire se una ragazza ti scrive scrive nella descrizione sono una molto avventurosa cioè dai è più o meno quel tipo di comunicazione che ha utilizzato in questa descrizione e questa qua è stata per una ragazza in cui avevo fatto sesso prima puntento e varie altre cose poi quest'altra qui questa era stata vabbè come fa ridere perché c'è scritto no one night stand no ons vuol dire no one night stand e che cosa abbiamo fatto una one night stand poi potevo continuare a rivederla ma non me ne ero interessato a rivederla però se non sarebbe stata probabilmente una trova amicizia quindi scrive qua sono a Dubai per lavoro ecco qua c'è la doppia cosa vorrei soltanto farmi dei nuovi amici qui cioè dai è veramente è ridicola come cosa quindi però cioè se uno si va a destabilizzare dal fatto che la ragazza scrive no one night stand e vorrei soltanto farmi dei nuovi amici magari uno fa direttamente la swipe a sinistra o magari se ci arrivi all'appuntento ti fai condizionare da questa descrizione qua quindi no cioè non ti preoccupare quindi lo scrivono per andare a repellere i disagiati i morti di figa eccetera quindi e notare i scenari ricorrenti fra queste descrizioni poi altra ragazza traduciamo descrizione questa qua vedi che nella prima foto era in costume al mare quindi adesso magari non è per forza uno scenario ricorrente la cosa dell'essere in costume nelle foto però vedi che o sono in costume nelle foto oppure hanno la descrizione dove dicono no one night stand e sono qua solo per conoscere amici sono sempre effettivamente una delle due quindi una delle due o più o più di queste situazioni mixate quindi qua in inglese traduco io dice arrivo dal Myanmar che è un paese asiatico sto cercando un padre single scherzo però se possibile perché no e dice no avventurina notte no one night stand e per vostra informazione sono molto piccola piccola in termini molto bassa però nota c'è scritto no scopate no roba di una botte via no one night stand interviene un po' cosa c'è stato non mi interessava continuare a rivederla per i miei motivi ma se no tranquillamente poteva andare avanti come troviamo amicizia poi andiamo alla prossima alla prossima questa qua è questa del 2020 se non sbaglio qua non c'è la foto meglio ce l'ho la foto però era tipo già ipercensurata la foto quindi non si vedeva niente quindi tanto vale l'abbiamo tagliata e e qua questa qua è una ragazza che anche lei cercava molto una relazione però è riuscito comunque a portarla diciamo a far sesso a prima contento a vederla no forse non lavoro neanche rivista perché appunto poi vabbè c'erano anche erano tempi del 2020 quindi c'era tipo un momento di zona rossa in mezzo che non ha aiutato le cose però qua la descrizione è molto effettivamente da relazione lei qua nella descrizione scrive istruzioni coccolare snuggle non so esattamente cosa voglio dire però sempre robe diciamo riguardo al coccolare regolarmente per il mantenimento di entrami felici fatta con con l'amore sono alta 1,70 sono piuttosto alta e quindi è una descrizione più che altro che fa presagire una ragazza interessata una relazione infatti era così dopo che ho fatto sesso nell'appuntamento c'era poi una zona rossa era tipo novembre dicembre 2020 e quindi e poi dopo quella volta lì siccome tanto dovevamo aspettare un mese prima che cadessero di nuovo le restrizioni e mi hanno scritto un messaggio del tipo del fatto che non aveva senso continuare a vederci sapendo anche che poi mi sei trasferito all'estero lo sapeva già che avevo questo come obiettivo e quindi appunto siccome era interessata una relazione la cosa poi è terminata lì però se non ci fosse stata la roba lì della zona rossa in mezzo se effettivamente io non le avessi detto comunque avevo come obiettivo il trasferirmi via dall'Italia probabilmente avrei potuto impostare una tromacicizia sarebbe durata probabilmente poco magari giusto qualche mese uno o due mesi magari un po' di più e poi sarebbe finita però si sarebbe potuto impostare una tromacicizia quindi per riassumere questi scenari ricorrenti foto in costume la ragazza che scrivono no one head stand no non sono una da una botte via e sono qua per conoscere nuovi amici quindi quando vedi questi tre segnali qua non farti destabilizzare sappi che in realtà sono ragazze con cui se fai le cose fatte bene puoi arrivarci al sesso anche al primo appuntento e installarci una tromba amicizia ti ricordo che dal 16 al 23 agosto puoi ricevere in regalo una giornata di corso al vivo individuale a milano o roma con un coach ufficiale di approcciola.it dal valore di 750 euro acquistando uno qualsiasi dei miei migliori videocorsi trovi tutte le informazioni cliccando sul primo link qui sotto in descrizione hai domande o dubbi scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente anche qui trovi il link in descrizione parla uno che pratica tutti i giorni focalizzato per mesi e che sostanzialmente faceva sempre gli stessi errori e diciamo che se non fosse intervenuto qualcuno più esperto di me probabilmente me li sarei tirati forse tutta la vita queste errori qua che faccio che facevo in pre-approccio che faccio in instant date niente vestita molto figa è venuta comunque con tipo una specie di top lo sai tipo di queste ragazze come si può stare ragazze tipo pantaloncini comunque molto molto diciamo aderenti tacchi e tomichi poi dopo giustamente dopo un poco poi provo a baciarla niente si lascia baciare tranquillamente e poi l'ho baciato un altro poco comunque lei è abbastanza presa anche se è più grande di me la ragazza bionda era vicina a me da questa parte la ragazza come si chiama la sua amica era davanti ad una certa mi metteva sui c***o la amica bionda e cosa succede? e lì ho detto ma potrebbe starci dopo i svariati segnali di interesse che mi ha dato ho fatto un invito lo portate molto facilmente a casa mia così abbiamo fatto questa sessione di sette giorni ha avuto una media sempre di tre quattro contatti al giorno che ha poi permesso di fare praticamente un appuntamento ogni giorno nei giorni successivi ci sono stati anche un bacio e una ragazza portata a casa e quindi il risultato è sicuramente positivo così abbiamo fatto questa sessione di sette giorni ha avuto una media sempre di tre quattro contatti al giorno che ha poi permesso di fare praticamente un appuntamento ogni giorno nei giorni successivi ci sono stati anche un bacio e una ragazza portata a casa e quindi il risultato è sicuramente positivo e quindi